Ciao ragazzi, sono il dottor Gianfranco Miene, sono un nutrizionista, esercito la mia libera professione qui a Rocca e a Sorrento e mi occupo da quest'anno del settore nutrizione della squadra di Rocca Reino, la basket e volley. Spero di poter dare una mano per quanto riguarda le mie competenze professionali, di poter migliorare quello che è lo stato di salute, in primis degli atleti che è quello che mi preme maggiormente e poi si spera che si possano migliorare anche le performance atletiche. Ci hanno tenuto molto a strutturare un team anche biosanitario, oltre al nutrizionista hanno anche un preparatore atletico, un fisioterapista, è un punto a favore senza ombra di dubbio della società, della dirigenza e insomma è un bel risultato per Rocca Reino, per il quale chiamo come paese e per il quale provo una grande identità. Considerando anche l'anno dal quale stiamo venendo, l'anno Covid, penso che sarà molto molto importante per gli atleti essere eseguiti da professionisti. Ragazzi un forte saluto alla squadra, alla dirigenza, soprattutto alla città di Rocca Reino e sperando che quest'anno vi possiamo dare altre soddisfazioni e poter essere promosso in Serie C Gold. Per quanto riguarda la dieta quest'anno se non la seguite sommazzate, quindi vi raccomando impegnatevi.